L'arte come cura. Abbiamo bisogno di una cura intensiva perché qui si sta uscendo di matti. Allora, dobbiamo fare qualche cosa. Io sto cercando di parlare con persone che hanno grandissime capacità, che hanno creato cose meravigliose, che hanno cambiato il modo di pensare. Tutte queste dirette che sto facendo, incontrando Roberto Mercadini, Enrico De Aglio, Andrea di Favara, che hanno fatto delle cose strepitose. Perché? Perché io penso che in questo momento dobbiamo progettare qualcosa di veramente diverso. Serve una reazione. È più di un anno che siamo carcerati senza colpe. Non è pensabile che riusciamo a venire fuori da questo stato di prostrazione che resterà, anche se, come spero, grazie al vaccino riusciremo a ritornare a una vita normale. Beh, però qui bisogna fare qualche cosa. Cioè, sto pensando, non so, a una settimana ad Alcatraz, autogestita da cento artisti che vengono qua e riempiamo tutto di sculture, di video, di racconti, di scritti, pubblichiamo manifesti per la gioia, urla di protesta contro la complicazione della vita, esistenzialmente indiscutibile la complicazione della vita. E poi, non so, vorrei unirmi con altri che in giro per l'Italia stanno facendo arte, creare una serie, un percorso di link, proprio una specie di strada in internet per cui tu puoi passare da un museo all'aperto a una foresta, a uno studio di un pittore, a un luogo dove si suona, dove si canta, dove si recita. E un nuovo modo di usare la rete, un nuovo modo di connettere gli artisti, non solo gli artisti professionisti, intendiamo, ci sono in Italia, per fortuna, centinaia di migliaia di artisti, di gente che crea, che inventa, che inventa fiori, piante, sculture, maglioni fatti all'uncinetto, cose strepitose, dobbiamo mettere assieme questa creatività. io so che è un momento di merda, cazzo, so che è difficile in questo momento qui pensare a qualcuno dire, ma cosa vuoi fare qui, siamo nella merda. No, ma è proprio qua che voglio dire, no? Possiamo immaginare, usiamo questo momento che siamo chiusi, che non possiamo abbracciarci con tutti gli amici, che non possiamo fare un sacco di roba. Usiamo questo momento per metterci a progettare, a inventare, a immaginare tutte le cose che non abbiamo avuto il tempo di immaginare perché prima avevamo tutto che funzionava in un'altra maniera. Allora, un'altra cosa che sto cercando persone pazze che abbiano voglia di connettersi è il gioco dei regali. Abbiamo fatto un gruppo Facebook chiusissimo, proprio selezionatissimo perché abbiamo bisogno di fare un gruppo di persone che veramente vogliono essere attive. Questa pagina si chiama il gioco dei sogni e l'idea è di creare un gioco basato su che cosa? Sul regalo. Il regalo è una cosa meravigliosa. Regalare è una medicina, ricevere i regali è una medicina, ma regalare di più, cioè è una cosa meravigliosa. Il nostro cervello non è una cosa filosofica, è stato dimostrato che la quantità di sostanze, di droghe naturali, della gioia che il cervello produce quando tu regali è maggiore di quello che tu produci quando tu ricevi. La gioia è un fatto chimico, è un fatto chimico. C'è la serotonina, c'è l'ostriciotina, la trichetepetina, la pudadubabdina, tutte sostanze meravigliose, endorfine, droghe, droghe. Il nostro cervello funziona producendo delle droghe, droghe che fanno bene al fisico, non droghe chimiche negative esterne, no, no, droghe che servono ai polmoni, al fegato, eccetera. E quando tu fai un regalo stai ancora meglio di quello che l'ha ricevuto. E attenzione, hanno verificato che il regalo deve essere, se è un regalo all'interno alla famiglia, non è così forte. Il massimo è regalare a uno sconosciuto. Allora perché non possiamo inventare da una parte una catena di opere d'arte e l'arte è un regalo che fai a te e al mondo e ti fa bene perché l'ossitocina con il regalo impazza, con l'arte impazza e tanto più creare invece una rete di regali. Cosa c'hai da regalare? Quello che sai fare, le tue competenze. Io posso regalare disegni, posso regalare poesie, canzoni no perché non le vorrebbe nessuno, avrebbero l'effetto contrario ma io insisto comunque a cercare di trovare qualche musicista che voglia realizzare con me delle musiche e delle canzoni. Ma posso regalare fotografie effettate, posso regalare delle ambasciate d'amore, posso telefonare per te alla persona che ami e digli guarda c'è questa persona che veramente ti ama in maniera pazzesca, io te la consiglio, guarda proprio una persona veramente corretta. Posso fare delle lezioni di storia, posso fare delle lezioni di storia, di teatro ecco posso fare delle lezioni di teatro, delle lezioni individuali di acquarello, seguire una persona magari che sta cercando di creare qualcosa che c'entra con la mia esperienza, ad esempio un agriturismo. Io regalo tutte queste cose qua e adesso il problema che stiamo discutendo è come costruire un sistema per cui uno dov'è che va a chiedere il regalo, dà qualcosa in cambio per il regalo, è obbligatorio, non è obbligatorio, però sarebbe bello che io faccia un regalo a te e tu fai un regalo a un'altra persona e questa persona fa un regalo a un'altra persona. Creiamo una onda positiva. Lo so che sembro un coglione a dire queste cose, lo so, ma io insisto perché secondo me in questo momento noi possiamo emergere da questa cappa di tristezza, di rottura di palle, di esaurimento proprio psichico soltanto se troviamo un grande gioco. L'arte è un grande gioco, regalare è un grande gioco e allora pensaci, usa lo spazio di questo video per mettere le tue proposte e se tu farai delle proposte interessanti, io ti proporrò di entrare in questo gruppo di facinorosi dell'amore. Noi siamo facinorosi dell'amore, noi siamo quelli che non riescono a smettere di pensare che l'amore su questo cazzo di pianeta, in questa cazzo di vita sia una cosa fondamentale e che l'amore possa essere espresso, debba essere espresso con dei gesti, dei gesti di solidarietà, di creatività, di comunità. Usiamo la parola comunità perché le comunità, le comuni insomma hanno un po' sputtanato questa parola, dietro le comunità poi sono viaggiati leaderini, guru eccetera eccetera. Io posso dire tranquillamente che in 40 anni non ho costruito assolutamente nessun tipo di gruppo di struttura di potere, però dobbiamo creare una comunità realmente paritaria, una comunità senza leader, una comunità basata sulla biodiversità, una comunità diffusa sul territorio, un connettere tutto quello di grandioso che c'è in Italia perché in Italia ci sono un sacco di cose grandiose. Bene, spero che ci siano poche persone, non servono migliaia di persone, poche persone che stiano sentendo nel mio stesso modo l'odore della situazione e che siano in grado di immaginare un vento profumato che arriva con la primavera, i fiori, una voglia di rinascita, una voglia di cambiamento che parte da quello che tu fai oggi. No progetti a lunga scadenza, la filosofia Shanghai, facciamo una roba piccola, un'idea piccola, facciamola funzionare, raccogliamo la soddisfazione di essere riusciti a fare una piccola cosa e poi ne facciamo una più grande. La rivoluzione dell'amore è indispensabile, l'arte ti cura. Ciao, buona giornata, buona giornata, buona giornata, buona giornata.